ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video oggi faremo la reazione a un nuovo setto in realtà non so se è veramente uscito perché stavo un po guardando delle foto su instagram e delle storie all'improvviso vedo una storia dove a una ragazza non italiana perciò penso che non si è ancora uscito in italia ma solo in america comunque ero regalato questo set che dovrebbe essere il set della pattinatore io sinceramente nella realtà amo pattinare c'è già a cinque anni ero sui pattini alle hotelle quindi se è vero lo comprerò lo comprerò in questo momento quindi andiamo a vedere se è uscito veramente questo nuovo set sì mi sa proprio di sì set di animazioni pattinatore allora a questo punto raga mettiamoci i pattini quali ci mettiamo dai mettiamoci questi se non ci interessano tutti questi avvisi set di animazioni pattinatore allora questo è quando stai fermo questo è quando ci sesterai bellino del carino però secondo me non c'è secca niente da pattinatore però sinceramente c'è come dovevano essere sbagliati i pattinatori quindi hanno messo qualcosa che è totalmente a caso ci sta quando quando corri poi quando ti siedi e quando molto bellino direi compriamolo anche se poi mi rimangono 82 mila vacanze non fa niente ma è bellissimo e quindi niente raga andiamo un po in giro a provarlo comunque io raga dovevamo pattinare quindi non potevo non prendere questo set vedete vediamo anche se qualcun altro ce l'ha è bellissimo raga rimaniamo fermi bello camminiamo carino corriamo bellino sediamo carino quando ci troviamo non lo possiamo fare perché qui siamo in un bar quindi ragazzi il video finisce qui è comunque durato poco perché comunque era giusto un piccolo video faccio vedere il nuovo set e lo compro quindi è giusto qualcosa di non troppo lungo niente seguitevi su instagram mi trovate anche lì come martirattino basso eva credere basso niente ciao fatemi sapere nei commenti se questo set vi piace